C'è qualcosa di diverso nella crociera come la si intende in Europa Noi ne abbiamo fatto un'arte Festival, i maestri europei delle crociere Melinda, vuol dire mordimi E perché hai scelto Tele2? Perché i miei figli sono diventati adolescenti Mi spiego? E anche i loro amici sono adolescenti E tutti hanno il cellulare Hai idea di quanto costa chiamare un cellulare da casa? Abbonati al 1922 Con Tele2 puoi risparmiare su tutti i tipi di telefonate Tele2, perché pagare di più? È normale che germi invisibili vengano a contatto con lui e con te Nel gestione si possono diffondere ad altri capi Al detersivo a volte puoi aggiungere Napisan Plus Il detersivo rimuove lo sporco Mentre Napisan Plus disinfetta i capi È un presidio medico-chirurgico Leggere quanto riportato sulla confezione Nelle coltivazioni Segafredo in Brasile Ogni anno la magia si ripete Nasce così il caffè italiano più amato nel mondo Segafredo, un mondo in una tazzina È un medicinale Leggere attentamente il foglio illustrativo Outpub 20266 E non c'è niente di uguale D'altronde è un prodotto artigianale Fatto con cure, passione Del tutto naturale E poi Che buono Da solo e con ogni cibo D'altronde usiamo solo Il latte delle nostre mucche Che sappiamo cosa mangiano loro Che buono Parmigiano reggiano Non si fabbrica, si fa Ogni volta che volete la purezza assoluta Andate direttamente alla sua fonte Levissima Purissima lei Purissimi voi Altissima, purissima, levissima Metis, buongiorno Sì, capisco Lo vuole veloce Molto veloce Forse è la persona giusta Lei un lavoro dinamico in movimento Lo accetterebbe? Ma quanto è movimento? Metis, trova il tuo lavoro Metis, lavoro in movimento Ho sognato Che noi tre Avremo sempre mille cose da dirci Con noi tre Un telefono di casa infostrata E due telefonini wind Parlano tra loro A una tariffa da sogno E il primo minuto di conversazione È sempre gratis Chiama l'155 Il gusto è tutto nella leggerezza Bon roll a Aya con spinaci Se c'è Aya c'è gioia